Un soggetto con quattro tecniche Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Oggi un video davvero esplicativo Vi faccio vedere come uno stesso soggetto può avere un risultato diverso a seconda della tecnica con cui lo si dipinge è un metodo diretto per farvi capire qual è la vostra tecnica preferita e come scegliere i soggetti in base alla tecnica ma basta parlare, clicca su iscriviti, piggia sulla campanella per non perderti i futuri video e spostiamoci di là e andiamo a vedere questo soggetto in quante tecniche lo si farà ed ecco l'occorrente per il nostro dipinto con quattro tecniche differenti useremo la gouache e quindi una confezione di gouache l'olio, quindi dei tubetti ad olio io come medium e lavatore userò il tintorzetto lavatore che è appunto non nocivo ed è un solvente per colori ad olio gli acrilici che diluirò con dell'acqua come la gouache e gli acquerelli, userò i Winsor & Newton e li diluirò con l'acqua come carta sto usando il water color fabriano perché è una carta per acquerello con 25% di cotone che è ottima per accogliere qualunque tecnica, non solo l'acquerello iniziamo subito mi sono già portata leggermente avanti e ho già disegnato tre dei quattro disegni che dovrò fare più o meno tutti uguali quindi io disegnerò un etna stilizzata e semplificata a campiture piatte un po come uno degli ultimi dipinti che abbiamo fatto con la gouache con la gomma pane tampono le orme del mio passaggio a matita per fare un acquerello che sia più evidente decido di fare bagnato su asciutto perché devo paragonarlo comunque a delle tecniche che hanno una bella impronta quindi e preparo i miei colori per creare il tono del cielo e inizio ad inserirlo adesso inizio a dare delle campiture rossastre per il fumo che fuoriesce e adesso con i toni del giallo e dell'ocra dipingo l'etna è da subito evidente come per fare un disegno grafico con l'acquerello bisogno usarlo in maniera più decisa facendo asciugare un po meglio le campiture attigue quindi il ripasso ciò che ho fatto prima sempre in maniera trasparente ma con dei colori più vividi e lascia asciugare i toni mediani insomma quelli che stanno in mezzo che nel mio caso sono i gialli mentre asciuga il fumo ripasso leggermente sul cielo e adesso rinfranco i gialli e attendo che si asciughi adesso passo agli acrilici prendo una tavolozza adesso prendo un po di blu un po di giallo un po di bianco e mescolo questi bei colori e inizio a dipingere con del giallo e una punta di nero e un po di bianco ovviamente adesso una micro punta di rosso abbiamo un ocra un pochino di rosso perché la voglio un po più calda e ocra sia e adesso aggiungo ancora del rosso un'altra punta di nero e facciamo un terra di siena ok ci siamo e adesso andiamo con i rossi col colore del sole il raggio anche la parte luce passiamo adesso alla gouache anzi prima di passare alla gouache facciamo il sole ad acquerello gouache gouache delle mie brame allora per la gouache ho già dei colori pronti quindi li faccio rinvenire e li utilizzo subito la bellezza della gouache sta proprio in questo che i colori in paletto non vengono mai rovinati ma possono sempre essere ribagnati e riutilizzati come vedete la gouache si usa in maniera più fluida dell'acrilico e questo ne rende molto più semplice l'utilizzo vedete quanto meno ci sono stata di contro però non ha la stessa compattezza rimane un poco ondulata come l'acquerello al primo passaggio qui ho i colori pronti quindi per sbrigarmi e non farvi perdere tempo li utilizzo già e adesso procedo con i rossi faccio rinvenire quelli che ho in palette con i rossi città io come a e adesso passiamo all'olio e mi viene da dire che noia perché sicuramente è la tecnica più lunga di tutte e devo essere brava adesso rinserire i colori nel modo giusto benissimo iniziamo iniziamo abbiamo qui un terra di siena naturale tra l'altro la qualità di questi colori è meravigliosa metto un nero il verde questo set è bellissimo per chi volesse cominciare a dipingere questo set anones non lo fanno più scusate non lo fanno più aveva i primari più alcuni dei colori fondamentali che è sempre bene a verde per esempio il magenta c'è sì ma c'è anche il rosso cadmio che è il rosso che noi conosciamo come rosso penso che ormai la ferrario l'abbia acquisita la mymery quindi se ha mantenuto la linea se trovate questa confezione è una bellissima confezione di colori ad olio non è pubblicità perché io si collaboravo con la ferrario ma non collaboro con la mymery quindi questi me li mandò la ferrario e adesso decidiamo come approcciare al disegno intanto cambio il tipo di pennello voglio un pennello piatto a lingua di gatto olio ne ho tanto qui ho anche il medium me ne verso un pochino qui qualora mi servisse per diluire qualche colore intanto bagno il pennello e cominciò con trasformare questo colorino in un'ocra aggiungendo del giallo quindi aggiungo del giallo al terra di siena naturale e una puntina di nero e vado a colorare a dipingere un po di bianco perché sono molto trasparenti già proprio cambia l'atmosfera iniziano gli odori fino adesso portato avanti pittura in odore elimino quanto posso le striature voilà per assimilare molto il pennello in questa fase non bagno il pennello lo pulisco solo con la pezzetta spengo ancora questo colore aggiungo del rosso nero rosso e terra di siena naturale danno vita al terra di siena bruciato certo è che sicuramente il fatto che l'olio sia una pittura più lasciate meno il termine seria si percepisce anche dalla vibrazione del colore che tutta un'altra cosa allora dipingere ad olio ha un sacco di problemi in più sicuramente è più lungo ci sono come dicevo gli odori la sessione di lavoro diventa più impegnativa la velocità di asciugatura cessa di esistere però però che vibrazione al colore adesso immetto i rossi gli aranci i gialli adesso giallo un po di terra di siena e facciamo il sole e adesso l'ultimo colore il cielo un po di verde un po di giallo un po di bianco io lo so che la parte del video che vi sta piacendo di più è quella in cui prepari i colori ne sono certa e per questo non ho preso i colori già fatti voilà ci siamo un altro po di giallo questo è un'altra punta di bianco finito anche ad olio intanto vi dico le mie considerazioni tra tutti sicuramente quello che si presta a questo tipo di lavoro molto piatto è l'acquerello perché l'acquerello ha un movimento dato proprio dal medium che ne fa proprio parte come colore che è l'acqua non riesce a rendere in toni sfacciati quello che lo stacco di cromia e di conseguenza perde perde in una lavorazione così semplicistica subito dopo si piazza l'acrilico anche lui perde in freschezza in questo genere di lavoro è adatto a questo genere di lavoro però su due passate cioè una passata sola non ce la fa a fare il dipinto vedete la manchevolezza di colori in alcuni punti bisogna che asciughi e che ci si ripassi di sopra dopodiché si avrà quel genere di colore stagliato che piace vedere in questo tipo di pittura ma in questo modo si perde non soltanto la celerità ma anche la freschezza del tratto andiamo adesso alla gouache che invece si presta benissimo a questo tipo di lavoro io sono stata frettolosa ma guardate che è venuta bella la fumarola guardate che bei colori stagliati tutto molto bene però tutto molto opaco quindi questa è una differenza adesso di gusto che vi deve spingere è l'olio anche l'olio si presta benissimo con la differenza che non si avrà mai un colore del tutto piatto si vedranno un po sempre le striature del pennello e quindi si vedrà la vostra mano devo dire che questi due sono quelli per cui propenderei sull'olio quando voglio fare qualcosa di ancora più complesso per la gouache per dei disegni così semplici riesce a rendere in maniera fantastica il lavoro se poi la voglio rendere lucida mi basterà spruzzare sopra una vernice per acrilico o tempera lucida e lei si luciderà adesso faccio asciugare ripulisco i margini e vi faccio vedere tutto bene bene in foto e aspettate qui che ho ancora qualcosina da dirvi a dopo pollice in su se il video vi è piaciuto a presto a presto e alla fine questo è il risultato ve lo faccio vedere anche da lontano e allora guardate un po il soggetto ad acquerello è sicuramente il meno adatto nel video vi ho detto che è il più adatto ma io intendevo un po' dire che era il meno adatto perdonatemi il meno adatto perché continua a muoversi malgrado la staticità del soggetto e quindi non è proprio il migliore prende infatti ad avere un aspetto un po inquietante gli altri tre invece possono essere sviluppati tranquillamente a seconda del gusto personale a me tra tutti come vividezza del colore neanche a dirlo quello che mi piace di più è quello ad olio ma come texture grafica e scintillio del colore brillantezza malgrado la texture vellutata sicuramente la gouache rimane in un limbo l'acrilico che rimane un po' né carne né pesce però naturalmente con due passate anche questo è il suo perché tra tutti con una sola passata la gouache secondo me rende meglio voi cosa ne pensate e allora sviluppate la tecnica che più si confà alla vostra creatività e naturalmente scegliete il soggetto adatto per la tecnica prescelta una tecnica più mossa e delicata per quanto concerne l'acquerello una tecnica sempre mossa ma più moderna per quanto concerne l'acrilico la rarefazione del soggetto la resa grafica la texture vellutata per quanto concerne la gouache e il movimento pittorico la pennellata la matericità per quanto concerne il colore la brillantezza del colore per quanto concerne la pittura la vera pittura secondo me la pittura ad olio bene ditemi la vostra lasciatemi lo scritto tra i commenti qual è il vostro preferito e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video ma prima di andare via vi voglio annunciare che arte per te è sbarcata sul tiktok e quindi venitemi a cercare anche su tiktok arte per te pennello bianco su fondo rosso troverete anche lì i miei video vi aspetto numerosi per un supporto datomi proprio da voi che siete la vecchia guardia quelli del canale youtube vi aspetto tutti da ombretta e da arte per te è tutto ci vediamo la prossima volta ciao ciao